Caso unico nell'Italia centro meridionale per la caratteristica architettura, il castello della Monica Teramo è stato di mora e lo studio dell'artista vissuto tra l'800 e il 900. Realizzato tra il 1889 e il 1917, anno della sua morte, è luogo per i terramani non solo di superstizione e leggende che vendono della Monica protagonista di presagio e profezie. Sì esatto, il castello che è stato da poco riaperto a seguito dei lavori di miglioramento dell'illuminazione di tutti gli spazi interni e anche di alcuni spazi esterni grazie al lavoro anche dell'assessore Cavallari. Durante il periodo di Natale insieme alla Pinacoteca offriremo tutta una serie di anche piccoli eventi e manifestazioni quindi con la Pinacoteca si ascolta anche con dei concerti in Pinacoteca. Mentre qui al castello ci saranno laboratori soprattutto dedicati ai bambini e visite guidate quindi c'è un fitto calendario anche sul nostro polo museale e castello che poi dovrà essere chiuso nuovamente per degli importanti lavori di recupero del terzo e del quarto piano del castello che ci permetteranno in qualche modo di fruire di tutti gli spazi del castello. Dopo la sua riapertura, anche se parziale, il castello della Monica è diventato un luogo di grande attrazione per i visitatori. Possiamo dire che il castello è stato preso d'assalto? Assolutamente sì, è il bene della città di Teramo, del nostro polo museale che è stato più visitato dall'apertura, sono migliaia veramente i visitatori che sono arrivati a Teramo attraverso una serie di operazioni, anche di mostre e di eventi che abbiamo organizzato. Quindi sta diventando uno dei poli attrattori per la città di Teramo.